Il problema che ci stanno ponendo i medici è il rischio di contagi in ambito familiare e quindi stiamo cercando di collaborare con le autorità sanitarie per creare dei luoghi dove sia possibile effettuare la quarantena senza mettere a rischio i propri cari. Stiamo pensando a persone che magari vengono dimesse dall'ospedale perché bisogna liberare gli spazi ma che non sono ancora non contagiosi e quindi possono passare qui il tempo prima che venga certificato che sono totalmente guariti. Oppure pensiamo a persone che sono state in prima linea, non solo medici e infermieri ma le forze dell'ordine che magari vivono in ambienti collettivi che hanno bisogno di isolarsi per garantire la sicurezza sanitaria a loro e delle persone con cui sono abituati a lavorare. Allora questo spazio ha questa funzione e ringraziamo la proprietà dell'hotel perché è stato un grande esempio di grande collaborazione in un momento di difficoltà per il paese e anche per la nostra città. Abbiamo i dati che sapete voi, siamo comunque preoccupati, dobbiamo cercare di garantire il massimo dei servizi sanitari in questo caso e quindi anche di inventarci cose nuove. Comune di Milano si è messo a disposizione, noi non abbiamo competenze sanitarie però in questo momento tutti dobbiamo fare più di quello che ci è normalmente richiesto in una situazione di emergenza. Grazie. Grazie.